Avrei voluto parlarne in un video molto più lungo, ma poi avrei avuto difficoltà a divulgarlo anche nelle altre piattaforme. Quindi, in sostanza, cosa sta succedendo? Scusate, mi è venuta un po' di congestione nasale. Succede che le live da oggi migreranno di piattaforma. Non abbiamo ancora deciso se farle tutte, fare tutti i format o uno solo, due al massimo, ma migreranno di piattaforma. Passerà, infatti, da YouTube a doppio stream Twitch-TikTok. La situazione si è evoluta, tanto che alcuni miei modellatori hanno notato i movimenti che ci sono stati sul Discord, perché TikTok ha approvato gli abbonamenti sul mio canale TikTok, per l'appunto, e quindi si è deciso di fare un unico server Discord dove accogliere i abbonati. Oggi ci vedremo alle 5, un streaming doppio, sia su Twitch che su TikTok. Ritorno in pompa magna, quindi andate sul mio Twitch. È un bel passo.